Al via Palazzo Chigi la riunione del Consiglio dei Ministri. All'ordine del giorno le nuove misure per il contenimento del Covid-19 e per l'uso del Green Pass. È pronto anche il piano scuola predisposto dal ministro Bianchi che definirà l'organizzazione della didattica per settembre. I ministri dell'istruzione Patrizio Bianchi, della salute Roberto Speranza e delle infrastrutture Enrico Giovannini al termine del Consiglio dei Ministri hanno ottenuto un briefing con la stampa. Da oggi 6 agosto in Italia scatta l'obbligo del Green Pass anti-Covid per poter avere accesso ad alcuni servizi, per esempio locali al chiuso, cinema, teatri e musei. Dalla cabina di regia svolta a Palazzo Chigi si apprende che è stata decisa la riapertura in presenza a settembre per le scuole di ogni ordine grado. La norma non dovrebbe essere accompagnata da sanzioni. Inoltre il Green Pass sarà obbligatorio per il personale scolastico. È stato altresì deciso che i tamponi per gli studenti delle scuole secondarie avranno prezzi calmierati. L'ipotesi della gratuità dei test anti-Covid è stata scartata perché avrebbe potuto non incentivare i più giovani a immunizzarsi. Sul versante delle misure di prevenzione del contagio Covid il Green Pass sarà con ogni probabilità reso obbligatorio per gli studenti universitari. Da oggi sarà l'unico lascia passare per poter accedere alle seguenti attività, servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo, al chiuso, spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportive, musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre, piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso, sagre e fiere, convegni e congressi, centri termali, parchi tematici e di divertimento, centri culturali, centri sportivi e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi e le relative attività di ristorazione, attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casino e infine concorsi pubblici.